Ciao a tutti ragazzi e benvenuti qui da Vostro Eppegame per un nuovo video oggi andiamo a dare soprattutto una piccola analisi e dei pronostici per quanto riguarda soprattutto questa Champions League una Champions League che è di alti e bassi, di grandi sorprese come ad esempio lo Sheriff che ha fatto una rente 6 punti in due partiti ora andrà a giocare contro l'Inter, il Milan che andrà a giocare contro il Porto soprattutto andrà a fare questa trasferta, soprattutto in Portogallo contro il Porto e altre partite molto importanti andiamo a dare soprattutto 5 pronostici per quanto riguarda soprattutto questa Champions League le partite che secondo me sono veramente fattibili da giocare come ad esempio Ajax-Borsia Dortmund io metterei over 2.5 una partita dove vediamo sia Ajax che Borussia Dortmund che nelle precedenti giornate hanno fatto veramente un grande numero di gol sono delle squadre che hanno poca difesa ma hanno un reparto offensivo davvero pazzesco che potrebbe veramente far male soprattutto ai reparti difensivi della squadra avversaria quindi over 2.5 per quanto riguarda Ajax-Bors e Dortmund a 3 team Madrid Liverpool io metterei soprattutto Ajax-2 per quanto riguarda il Liverpool mentre Porto-Milan metterei io gol per quanto riguarda soprattutto questa partita dove il Milan ha in porto Tataruzano che non è veramente reattivo come il nostro Mike Magnan ma da tifoso rosse nello diamo fiducia a Tataruzano e spero che il Milan in questa partita la porti a casa Inter Sheriff metterei uno per quanto riguarda l'Inter che deve riscattarsi soprattutto in questa partita dopo il pareggio contro lo Schartal e la sconfitta contro il Real Madrid quindi i due milanesi stasera devono assolutamente riscattarsi e quindi siamo a quota 4 come pronostici e infine metterei io over 2.5 per quanto riguarda lo Schartal contro il Real Madrid che nelle precedenti partite nell'almalacco soprattutto nel storico di questo match sia tra Schartal e Real Madrid o Real Madrid e Schartal Donets e abbiamo visto che ci sono stati sempre un grande numero di gol quindi over 2.5 sarebbe su tutto l'ideale per questo ultimo pronostico beh ragazzi quanto riguarda tutto la Champions League questi a parere mio rispetto a tutte le altre partite questi 5 pronostici sono a parere mio i più fattibili da prendere hanno una grande probabilità di vincita e ci vediamo al prossimo episodio per quanto riguarda soprattutto gli altri pronostici sia di Serie A sia di Europa League sia di altri tipi di competizioni come la Conference League e fate sapere attraverso i commenti di i vostri pronostici di cosa ne pensate di questi pronostici e se volete proprio modificare qualche pronostico che a vostro parere non è fattibile ci vediamo al prossimo video vi iscrivete al canale lasciate un like e attivate la campanellina per essere giornali sui miei contenuti bella ragazzi vi iscrivete al canale